Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, in questo video vi porto le pagelle del giorno dopo di Lecce-Lazio 2-1 prima di cominciare lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, vi ringrazio perché abbiamo raggiunto i 1900 iscritti l'abbiamo anche superato un po', quindi partiamo subito, vedrete qui i giocatori con il relativo voto Falcone 6 e mezzo, compie una buona parata su Casale nel primo tempo, sul suo colpo di testa forse sul gol di Immobile poteva fare qualcosina di più, però oltre questo compie delle uscite decisive e cerca di bloccare in tutti i modi l'attacco della Lazio, quindi 6 e mezzo per lui, un portiere di assoluta affidabilità Difesa, Gallo e Jean André 6 e mezzo, primo tempo un po' più difficile con Pedro e Zaccagni che hanno messo molta zizzania sulle fascia, però poi nel secondo tempo sa con l'incattedra anche loro e sale ovviamente anche la loro votazione, quindi 6 e mezzo per loro difesa, Baschirotto 7-0, l'unico diciamo errore sul gol di Immobile se lui e Chiamtiti avevano provato la trappola del fuorigioco su Immobile non riuscendoci però l'importante è aver recuperato dopo la partita, Baschirotto quindi contrasti ovviamente sempre perfetto, quel meno per questi maledetti lanci lunghi, ok, era un momento della partita la Lazio comunque ci aveva chiuso e Baschirotto cercava in questi lanci di velocizzare un po' le azioni però secondo me alcune palle potevano essere gestite meglio siamo in un TT, 8, che dire di questo ragazzo, questo campione si sta riprendendo veramente con una velocità disarmante nonostante i cori razzisti e gli urulati che gli sono arrivati dalla curva della Lazio, lui ha risposto davvero campione sul campo inergendo un muro invalicabile davanti alla porta difesa da Falcone, davanti alla difesa quindi veramente una prestazione, secondo me la migliore prestazione di Samuel Untiti da quando è qui a Lecce passiamo al centro campo, Yulmand, 7-0, sbaglia parecchi palloni e passaggi soprattutto nel primo tempo, poi ovviamente nel secondo tempo sale in cattedra come il Lecce, gli do quel meno per appunto alcuni palloni sbagliati e per la munizione ha ricevuto che gli ha fatto scaturire la squalifica salterà a Spezia Lecce, tra l'altro fallo commesso dopo una sua palla persa quindi chiaramente dopo ha fatto un fallo tattico perché la Lazio stava ripartendo quindi era un fallo obbligatorio, diciamo, però è un peccato non avere il nostro capitano Yulmand in uno sconto diretto contro lo Spezia Blen e Gonzales, 7-7, partita di assoluta costanza da parte loro quindi veramente, veramente chapeau a questi ragazzi Gonzales sta crescendo giorno dopo giorno di Blen non se ne parla mai, non capisco il perché sinceramente molto sottovalutato questo ragazzo non sbaglia praticamente mai, si rende disponibile a centro campo iniziano a fare attacchi centrale quindi veramente tanto spirito di sacrificio da parte del centrocampista francese passiamo all'attacco invece Banda, 5,5 non è stata sicuramente la sua migliore prestazione tanti dribbling un po' a vuoto poi ovviamente il cambio è decisivo perché Banda esce alla fine del primo tempo all'inizio del secondo tempo, scusate dentro di Francesco a cui do 8 entra e spacca la partita arrivano dai suoi piedi comunque le prime conclusioni pericolose verso lo specchio della porta difesa da Provedel e poi ci mette lo zampino su entrambi i gol siglati da Lecce nel primo gol un suo tiro col mancino parato da Provedel palla che si alza in aria strefezza si trova lì al centro dell'area di rigore bravo comunque a tirare al volo e a siglare il gol e poi l'assist al bacio sul secondo gol quello c'è da dire comunque che sul secondo gol Jurman ha fatto un bellissimo passaggio per Di Francesco e Di Francesco poi col sinistro la mette in mezzo e Colombo si che gode il 2-1 quindi 8 per lui Colombo 7 non è stata anche per lui una gara facile ma i grandi attaccanti cosa fanno? nelle partite complicate alla prima occasione te la buttano dentro ed è proprio quello che ha fatto Colombo si è trovato al posto giusto al momento giusto e ha siglato il gol del definitivo vantaggio strefezza 7 e più gara comunque buona la sua primo tempo anche per lo difficile ma perché comunque la Lazio ci aveva chiuso bene e aveva appunto chiuso tutti gli spazi possibili 2-7 e più perché da parte sua ci sono stati un po' più di dribbling e giocate rispetto a Colombo però ovviamente essendo il suo ruolo è un'ala ci si aspetta da lui delle giocate del genere ovviamente il titolo di MVP va a Samuel Umtiti campione assoluto Malé, Cizè e Uden entrati nel secondo tempo e a Schilzer voto 6 perché ovviamente hanno dato hanno giocato poco insomma Cizè ha avuto anche qualche occasione Malé è entrato nonostante sia arrivato da qualche giorno e ha voluto entrare subito in campo questo dimostra la sua voglia di mettersi in gioco e di prendersi una mano dal titolare quindi non vedo l'ora di vederlo in campo di più questo ragazzo Baroni 7 e mezzo la sua miglior prestazione da quando è qui a Lecce a inizio anno ci lamentavamo anche io volevo da parte sua un essere più motivatore e Baroni partita dopo partita veramente sta migliorando da questo punto di vista ha motivato i ragazzi nonostante lo svantaggio contro comunque una squadra molto forte in Italia appunto come la Lazio e siamo riusciti a ribaltare ancora una volta una partita e questo anche merito suo al suo cambio al coraggio di cambiare subito e mettere di Francesco al posto di banda nel secondo tempo sono sicuro che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni e sono sicuro che il mister si sta togliendo tanti sassolini dalle scarpe visto che era stato criticato all'inizio anno eccetera io per quanto mi riguarda sono sempre stato pro Baroni quindi veramente chapeau chapeau al nostro mister vi ringrazio per aver visto questo video forse Lecce sempre e ciao